Cioè, più che altro, perché sei rimasto qui? Perché no. Sinceramente, domanda, eh. Perché no? Cioè, sono sempre stato qui, quindi... Ragazzi, ci invita. Noi, noi abbiamo un ragazzo che ha seguito le orme del papà ed era uno scultore, diciamo, dell'Empio. Questa è comunque una scelta che vedisco qui, perché mi trovo bene qui, cioè c'è un altro modo di vivere. Più faticoso per certi versi e per altri, invece, certi da molte soddisfazioni. Era un Cristo, vero? Fatto tu? E questo era un Cristo che aveva iniziato mio padre. Ah. Solo che aveva sbagliato le proporzioni. Ah. Quindi poi l'aveva dato a me. E ho provato a portarlo avanti io. Noi. 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 Grazie a tutti.